Un ferito è stato già dimesso dall'ospedale Antonio Perrino con 30 giorni di prognosi, l'altro resta ricoverato nel reparto di ortopedia. Il 43enne e il 61enne rimasti feriti a colpi di pistola il 22 giugno scorso lungo la litorale a nord di Brindisi saranno ascoltati dagli agenti della squadra mobile che indagano per risalire agli autori e circoscrivere il movente e l'azione di fuoco avvenuta tra le 9 e le 10. Tracce di sangue sono state trovate sull'asfalto nei pressi dell'ingresso di Lido Risorgimento. Le testimonianze dei due feriti infatti saranno determinanti nell'inchiesta posto che, stando a quanto si apprende, le telecamere del sistema di sorveglianza presenti all'esterno del Lido non erano in funzione. Il 61enne lavorava da 10 anni nello stabilimento balneare regolarmente assunto occupandosi di pulizie. Si era lasciato alle spalle il blitz contro il contrabbando di sigarette. Il Lido è totalmente estraneo ai fatti, in massima collaborazione è stata fornita sin da subito dalla titolare rappresentato dall'avvocato Antonio Iaia. Il legale precisa che i colpi di pistola sono stati esplosi all'esterno di Lido Risorgimento sulla strada denominata Via Torretesta e che nessun cliente, nessun bagnante è stato coinvolto. Soprattutto non c'era nessun bambino e non c'è stato panico tra i bagnanti, sottolinea l'avvocato. Lo stabilimento balneare non è stato chiuso, non ha interrotto le attività e ha proseguito in tranquillità la giornata sino alla tarda serata di sabato, senza alcun problema. Le indagini vanno avanti anche per chiarire l'arma usata, la dinamica, chi abbia fatto fuoco per primo, se uno dei feriti o altri, quanti colpi siano stati sparati e quante persone fossero presenti quel sabato mattina.